Nuovo RAV4 Hybrid, con 197 cavalli e fino a 20 chilometri con un litro, cambia il significato di potenza. Sarà un weekend da brivido quello che aspetta le formazioni di pallavolo femminile di Cava dei Tirreni iscritte in Serie C. Infatti, dopo aver perso in trasferta sul campo del volare Benevento, l'ASD Cava Volley ospiterà la prima in classifica del Girone B, che è il volleyball di Pomigliano d'Arco. La partita si giocherà domenica alle 19. Le pomiglianesi, nella scorsa giornata del campionato, hanno rafforzato il proprio primato andando a vincere a Cava contro l'altra formazione metelliana iscritta in Serie C, la MP Auto, che resta una delle ultime in classifica e a sua volta giocherà sabato un'altra partita proibitiva a Ponticelli. Le cavesi del coach Vigorito hanno un solo punto e hanno perso tutte le partite, una sola delle quali per 3-2. Meno critica, invece, è la situazione del Cava Volley di Stefania Lamberti, che a Benevento aveva avuto delle buone indicazioni dovute alle capacità di segnare diversi punti, ma le indicazioni meno positive sono derivate dal fatto che nei momenti culminanti la squadra ha difettato in fase di concentrazione, una caratteristica su cui si può migliorare attraverso l'orgoglio e la motivazione. Lamberti spera di recuperare per la sfida con la capolista alcune delle giocatrici che per motivi fisici hanno saltato le ultime partite. Comunque sorrisi sono giunti soprattutto dal campionato CSI e anche dal settore giovanile della stessa ASD Cava. L'Under 14, guidata dalla stessa Lamberti, e la squadra CSI Open, affidata alle cure di Teresa Risi, hanno infatti vinto le rispettive partite mostrando ampi margini di miglioramento.